Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e bentornati su Mortal Kombat 11 in compagnia di Tuberanza! Dai e raga, ci siamo! Ancora una volta per darcele di santissima ragione. Finalmente una nuova sfida dopo che la prima qua sul mio canale vi è piaciuta un botto. Abbiamo fatto anche tanti video in compagnia di Francesca, tu chi scegli bro? Dove vai? Io vado con... voglio iniziare la grande, con il botto Scorpion. Con Scorpion? Va bene, ci sto. Prima di iniziare ragazzi, pollice in su, ora! Fateci sentire il vostro calore al massimo! E soprattutto fatelo adesso, altrimenti dopo me ne dimenticate. Dovete lasciare un like se volete... Scusami una cosa, Giuseppe. Fate sentire il vostro calore, considerando il caldo che sta facendo in questi giorni, non mi sembra proprio caso. Però vabbè. Fate sentire il vostro freddo. Fateci sentire la vostra freschezza, ecco. Un po' di aria condizionata. Però ragazzi dovete sapere una cosa, che io in realtà ho saputo dopo. Un segreto che Tube mi ha tenuto segreto appunto per, credo, un paio di settimane. Il caro Mirko, il caro Tube, è nella top 50 dei giocatori online di Mortal Kombat 11. Esatto. Ecco. Peccato che... Sono uno nella top 50 italiana. Top 50 italiana. Ma il problema è, perché me l'hai detto dopo il primo video fatto insieme? Capito ragazzi? Cioè, mi ha spiazzato tantissimo sta cosa. Quindi io sto giocando contro una persona che gioca online in maniera seria. Cosa che ovviamente io non ho mai fatto, non sto facendo tuttora. E soprattutto non mi sono allenato qua su Mortal Kombat. Ed è chiaro. Tranquillo. Si vede. Aspettiamo un attimo. Ok. Aspettiamo, aspettiamo. Che stai a fare? Metti le mosse. No, no. Ma come no? Perché a quel punto le avrei messe anch'io. Devo stare attento. Vai ora. No! Non ci credo. Via! No! Vai ora, mazzate incredibili. No! Pensavo di riuscire a colpirti per bene. Bam! Vai così. Oh! Ti arrivano un po' di mazzate, bro! Vai! Arrivano, arrivano. Devo stare attendo mo', eh. Vai, fa dal blow. Qua ho sbagliato un botto. Con un calcio in faccia vado a terra. Non è possibile. Concentrazione, forza. È bello, ragazzi, il fatto che Mirko non parli perché si concentra. Sì. Aia! Questa è proprio fastidiosa. Guardalo, guardalo! Questo ha fatto proprio male. Il dentista che lo paga qui? Chi paga il dentista qua? No, io non pago niente. Devi essere tu che devi offrire. Guardalo, guardalo che si avvicina subito in maniera cattivissima. Non è possibile, raga. Non è possibile. Il perfect non te lo faccio fare. Non te lo faccio fare. Il perfect... Vai così. Guardalo, guardalo. Mamma mia, devo stare attento. Via! Vai ora. Guarda, guarda, finalmente! E a te che ti devo pagarte? Oh, perdonami. Non lo so, ma pagami! Aia! Eh, vabbè, bro. Questo ha fatto male. Finalmente ti ho beccato, cavolo. Ah! Spam! Era ora. Era proprio ora, amico mio. Vai così. Oh, come mi diverto finalmente! Paola al blu parato. Uh! Ma cosa succede, bro? Il dentista! Il dentista te lo pago io. Ma cosa è successo? Eh, lo so, lo so. Può essere andata un po' così, eh. Aia! Non mi aspettavo. Un attacco così. Bam! Devo stare attentissimo. Oh! Bam! Attenzione che Peppe, il videogiocatore, si sta risvegliando. Sì, eh, sì, si è svegliato. Eh, vabbè, ragazzi, però. Devo mantenere un po' di concentrazione, altrimenti qua per me è la fine più totale. Bam! No! Mamma mia, bro! Qua potevi farmi veramente male, io te lo dico. Eh, sì, invece no. Ho deciso di risparmiarti un po'. Però, ragazzi, vi dico una cosa. Noi, ovviamente, almeno parlo per me, io non mi sono allenato per nulla. Quindi avrei necessità di mettere le mosse a schermo. Però guardate che cosa sto subendo qua. Aia! Bram! E vai! Ai, ha fatto male! Ha fatto malissimo! Io non mi ricordo nemmeno come si fa la fatality nel caso, eh. Non dico che deve capitare. Però, sai, nel caso in cui dovesse essere utile a una roba simile... Mi lasci mettere la fatality? Vai! Dai, dai, lasciamela mettere. Mettila, mettila. Dai, vediamo se la riesco ad acchiappare. Altrimenti ci sarebbe la brutality. Dai, ce la fai, ce la fai. Dai, però devi combattere al massimo. Non è che è così come uno spicchio di vita. Aia! No, è meglio che stavo zitto. Fammi vincere. Fai così. No! Vai ora! No! No, 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 no. No! 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 Mamma mia, ragà! Allora, mi sposto un po'. Vai! L'ho fatta! Bravo! Vai così, mi è andata bene, ragà, non ci credo. Vai con la super kamehameha di ghiaccio. Vai così con la scura e boom! Ok. Aia. Credo che questo abbia fatto molto, molto male, bro. Però te l'ho fatta pagare per il segreto che mi hai tenuto nascosto per tutto sto tempo, perdonami. Ma scusa, allora se mi hai battuto potresti tranquillamente anche tu provare a salire in classifica. Mo, io ho utilizzato un personaggio che non utilizzo mai per cercare di rendere la sfida un po' più equilibrata. Vuoi vedere cosa succede con il mio personaggio? Ma che è Baraka? Sempre il tuo Baraka. No, no, allora, Baraka è il mio secondo. Baraka è il secondo. Il tuo primo è questo, Collector? Allora, sceglilo. Beh, a questo punto abbiamo detto che sei... Collector è il mio primo personaggio, nonché il più forte, con cui sono arrivato appunto nella top 50 in Italia. Mamma mia. La cosa mi mette un po' di timore, devo essere sincero, però. È tranquillo, è tranquillo. Vediamo, vediamo. Io mi scelgo un personaggio mai utilizzato prima. Vediamo che succede. Il maschio del cane? Il cano? Eh, il peggiore, guarda, sei il peggiore. Ma cosa sta facendo? Ma che fa? Ma è vergognoso. Non ti ho mai spiegato la vera storia di cano. Cioè, tu sai perché cano ha deciso di diventare un combattente? E dimmelo tu, vai. Allora, praticamente, cano si era stufato del fatto che ogni volta quando uno giocava, dicesse, porco cano! Capito? Allora lui ha detto, oh, mo m'avete rotto, mo vengo a combatte pure io? Vabbè, mi sembra una spiegazione più che valida, ovviamente. Vabbè, ragazzi, comunque, a parte gli scherzi, una cosa ci teniamo a dirvela. Noi siamo grandissimi appassionati di Mortal Kombat 11, o in generale di Mortal Kombat, sul mio canale. E che cos'è questo? Il gioco dei grilli. Che stia fa? Aspetta, fammi dire una cosa importante, perché ci tengo. Vabbè, perdonami. Ci tengo. Quindi, ragazzi, come vi dicevo, siamo appassionati. Non siamo esperti, perché, appunto, non ci siamo allenati e così via. No, aspetta, scusa, io sono esperto. Vabbè, io sto parlando per me, vabbè. Ah, ok. Quindi, come vi dicevo, ragazzi, è ovvio che vedete delle azioni un attimino poco valide, ma, almeno da parte di Mirko, invece, c'è tanta concentrazione. Come vedete, ora mi sta scassando tantissimo. Bam! Eppure, nonostante tutto... No, ma ha preso! Io che mi stavo puratteggiando, no! No, ti prego, resisti. Ma che stai colpillati, oh! Cano... Ma non scherzo! No! Ma i... Mamma mia, bro! Mamma mia, bro! Cosa? Mamma mia, bro, non ci credo nemmeno io! Questo non l'ho capita, bro, cioè... Bene così, bene così! Oh, ma guarda che sto cano... Morde come un cano, veramente! Non mi riesce a mostrare! Vabbè, poi dopo rompere le scatole a me, eh! Ai, 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 lo so, però mi è uscita proprio bellissima! Ai, via, via! Uh! Oh, ma che... Ma che è? Spacco bottiglia? È vero, però, guarda! Uh! Ai, ai! Ok, uh! Ok, King Kong! Bam! Ai, oh! Sì, vabbè, ma mi facciamo più a la TV! Ahia, eh, vabbè, ragazzi! Ma questo c'ha quattro mani! È normale che picchi a due volte di più! Ma in realtà le quattro mani servono per altri scopi! E non... Che non ti sto a spiegare qui! Lasciamo perdere che è meglio! Vai ora! Parati! Boom! Vai! Sì, bro! Eh, vabbè, lo sapevo! Nah, già! Questa era combattuta veramente, eh! Questa era combattuta veramente! Vai, vai, vai! Mi hai picchiato mentre mi mettevo la fatality! Ok, ok! Uh! Ma non ti permettere più, eh! Uh! Oh! Guarda che cano! È un cano che abbaia e non morde! Cioè... Un cacacano! Un cacacano! Esatto! Oh, guarda! Ma che studio! Ma che è questa mancanza di rispetto? Ma è che... Capriola del drago nero! Del drago nero occhi rossi! Ma... Aia! Non so come tu ti hai fatto a fare questa cosa qui! Nemmeno io, in tutta sincerità! Oh! Aspetta! Volevo provare a fare la capriola, ma non c'è stato niente da fare! Aia! No, e dai, bro! Mannaggia! Piglia questo! Bam! È proprio quello che ti volevo fare io, in realtà! Bam! No! No! No, 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 no! Bam! Eh, ma voglio mettere la fatality, però! Vai! Me la tolta! Falla! Me la tolta da schermo! Ma come? Vai! Falla! No! La fatality! Ma dai, ma che c***a! Io l'avevo messa a schermo, non me non... Ma... Non ho parole! C'è tolta! Dai! Eh, vabbè! Vieni con me che ti porta a scuola, vieni con me che ti porta a scuola, eh? Che sei a di tu, cattiverie! Che dici? No, t'ho detto vieni con me che ti porta a scuola! Sto canno sai che non mi è dispiaciuto per niente? Poi purtroppo non è andata come volevo, va bene così, dai! Ma allora, ma come si seleziona casuale? Ah, ecco, selezione casuale! Ma come? Aia, no, d'ora, no! Io sono iniziale casuale, amico mio! Ci siamo, ragazzi! Finalmente ci siamo! Ascolta, ma ti sei dimenticato del mio amico? No, di nuovo lui no, bro, dai, ma basta! Sì, sai come l'ho chiamato... Giovanni l'ho chiamato! Ah sì, come Vegito Super Saiyan Blue, praticamente! Aia! Bam! Oh, ma questo... Dagli schiaffo... Oh, mamma mia! Ma che è questo? X-Men! Ma si sta gasando un botto! Eh sì, è quello degli X-Men! Mamma mia! Aia, che cacchio! Ma è fortissimo! No, aia! Eh, vabbè, ma questo ti scassa! No, ma preso, non ci credo, ragazzi! Ma dai! Fa proprio male! Resisti! No! Fa malissimo! Ma aia! Ammazza, l'hai detto, l'ho trapassato, bro! E vabbè, vabbè, va così! Volevi acchiapparmi! Uuuuh! Aio! E chi te l'ha giusta, sti denti qua? Seppur ci vedi al dentista, per com'è messa questa, niente da fare! Oh, ma è fortissimo sto tizio! Mamma mia! Da un botto di schiaffi! Va bene! Attenzione, eh! Oh! Bam! E porca miseria! Oh, ma questo... Ma guarda, guarda, ti blocca pure! Ma vabbè, ma questo dà proprio dei cazzottoni incredibili! Aia! Va bene! No, 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 mo no, eh! Mo ci dobbiamo dare una calmata! Via! No! Ok! No, 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 non va bene più, mo! Oh, presa! Porca miseriaccia! Ma che è, oh! Ma! Ma cosa fa? Ma è un mostro! Mamma mia! Vabbè, ragazzi, ma cos'è? Cioè, guarda, ma può guardare i pugni, ha i pugni nelle mani, lui! Beh, i pugni nelle mani... Bro, questa qui, questa cosa, la potevi un po' risparmiare! No, vabbè, ma questa è una citazione al grandissimo maccio capatonda! Ah! Vai, vai, colpisci! Ma cosa fa? Ma ragazzi, io non ho parole! Mamma mia, un attimo! Ci provo, eh! L'ho fatta? Sì, l'ho fatta! Ragazzi, non ci credo! L'ho vista giusto in tempo e l'ho fatta! Ma cosa fa? Cioè, bro! Ma cosa ha fatto? Bro, io non ho parole! Ragazzi, abbiamo fatto degli scontri assurdi! Il prossimo, ovviamente, sarà sul canale del caro Tuberanza! Ma oggi, se permetti la vittoria, me la son portata a casa! Eh, lascio la parola a te! Meritata! Meritata! Complimenti! Perché comunque, ti ripeto, sei riuscito a battere uno nella top 50 in Italia! Quindi comunque non è proprio una cosa da poco! Cioè, complimenti! Però comunque io ti ringrazio perché, nonostante hai saputo di questa cosa, hai comunque voluto sfidarmi! Bravo! Assolutamente! Non mi son fatto assolutamente mettere giù da niente, da nulla! Quindi ragazzi, ci siamo divertiti un botto oggi, molto presto arriverà anche il video sul canale di Tube! Mi raccomando, iscrivetevi ora al mio e al suo canale che troverete ovviamente in descrizione nelle schede! Lasciate un like! Noi vi salutiamo e alla prossima! Ciao! Ciao!